Not bad for a human. Transformers 4, dal 16 luglio al cinema. Come sapete, questi due film saranno girati contemporaneamente. Ultimamente si è parlato anche della presenza di Lanterna Verde e Flash, ma per ora non ci sono attori ingaggiati per questi ruoli, quindi vi terremo aggiornati prestissimo. Ciao da Valeria e presto!